Presentiamo Sandro Calà, allenatore della squadra Reale Unedì, autore della sorpresa più grande della prima giornata del torneo Derby Sports Cup 2010. Qual è il segreto di questa vittoria? Il cuore che ci hanno messo tutti i ragazzi per l'ultimo minuto, che hanno dato tutto quello che avevano per portare a casa i tre punti che servivano contro una grande squadra avversaria. Ringraziamo Sandro Calà e appuntamento alla seconda giornata del torneo Derby Sports Cup.